ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video prima di iniziare il video ci vuol dire una cosa si noi faremo una cosa veramente molto speciale sapete che perché tra poco è quasi pasqua e tra poco uscirà il film di super mario bros il film già ai quali noi ci andremo a vederlo si ovvero tanto quattro volte deve vedere questo film già infatti due ne vedremo a borgo nuovo cioè due due volte al cinema e due due volte a borgo nuovo sei d'accordo si sono d'accordo ok prima di iniziare il convocco il video oggi volevo dire una cosa che cosa sapete che non mi fa la regge giurassi guardi il dominio si ce la ricordiamo e qui troppo l'offreggio anzi scusa voleva che lo dicevo comunque sapete che ci giurassi guardi il dominio si quindi vuol dire che troppo faremo anche la ricetta di quali si potrebbero anche quelli come nuovi amici ottima idea signor di non perché non ci pensa subito è perché io allora dico io sono andato dal toy center e ho visto ho detto wow dei dinosauri nuovi fare nuovi amici giurassi guardi dominio mancano come due con quelli giovani racconta anche se aveva solo il pirorato reggiro fosauro come si era quel pirorato si chiama waka waka e che vuoi vuoi dire che parla così waka 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 vuoi dire che non le riesce a parlare è l'unica cosa che riesce a dire peggio di quello ma chi ti parli giuliam a giuliam è tipo quello che va ovvero che quella che riesce a dirlo già riesce a solo vabbè non fa niente lasciamo stare ma comunque devo dire un'altra cosa che cosa aspetta pensare ah sì che cosa c'era c'era il pirorato e waka waka no non è waka waka e sarà un altro sicuro me non credo chi dirà waka waka parleranno solo normale vabbè almeno avremo qualcuno invece solo di waka 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 che altro c'è dimetrodonte allora avveniamo il pirorato dimetrodonte che c'era ah c'era l'antagonista il giganotosaurus e il teridinosaurus e il t-rex eh ecco sono io che faccio vabbè non fa niente vabbè comunque faremo una cosa possiamo fare uno con quelli degli uomini amici che ne pensi sei d'accordo blu si sono molto d'accordo ok sono contento che sei d'accordo e da cos'altro proprio voglio dire ah sì che c'era anche aspetta fai pensare cosa ho visto ho messo le piante tutto quanto abbiamo messo le giocate gigantissimi così ma sicuramente quello non li compriamo e quanto costano te lo dico cosa ma dicero vero costano un miliardo di soldi sì proprio così esattamente blu costa un miliardo di soldi come possiamo chiamarlo questo video lo chiameremo annuncio per l'arrivo dei nostri ecco annuncio per l'arrivo dei nuovi amici no aspetta ah ecco questo ho un'idea lo questo lo chiameremo questo video annuncio per il nuovo video dei nuovi no ecco annuncio per i nuovi amici dinosauri per il nuovo video no aspetta penseremo dopo ma comunque adesso comunque prima di fare qualsiasi cosa adesso dobbiamo dover trovare di questi nuovi amici ma ci sarà anche il lofosauro ah no aspetta c'è anche aldo c'è anche blu come me magari potremmo quella sarà anche l'altro amico visto che sono io del primo Jurassic World esatto perché tu sei maschio eh sì nel film età è femmina ma io puoi però io sono maschio non sono femmina eh tu sei maschio non sei femmina è giusto cameraman è vero che sono maschio sì sei maschio tu sei non sei femmina sei maschio eh sì quello del film è femmina ma io del pro che del canale per p per bambini io sono maschio esattamente ma però io sono il miglior amico anche io sono i Jurassic World però non è come esattamente così ma adesso ma prima di certo sapete dove sto facendo un nuovo video su questo divano vedete tutto divano comodo che possa fare a rilassarmi ah rilassa il tacchetto blu sì ah aspetta blu signor tirano che c'è blu ho trovato l'unice per il chiamo come chiamano questo nuovo video come si chiama si chiama ecco annuncio per il nuovo video dei nuovi amici dinosauri questa è un'ottima idea blu ragazzi questo si chiamerà annuncio per il nuovo video no ecco come detto che si chiama annuncio per il nuovo video per il nuovo video sugli amici dinosauri ok no aspetta come chiamato aspetta ecco fai pensare ecco ho chiamato così come annuncio per il nuovo video no ecco annuncio per il nuovo amici dinosauri no ecco ecco cos'è annuncio per il nuovo amici dinosauri del nuovo video ottima idea blu ok come questo lo chiameremo così sì sì adesso che facciamo voglio richiudere le riprese no pensiamo un altro da non credo che va bene così e infatti come lo chiameremo aiutate aspetta aiuto aiutami dai pensa blu pensa 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 no 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 mette altre idee no aiutatemi aspettate facciamo un minuto ho fatto cadere scusa come si può chiamare questo nuovo video? boh non lo so ah ecco un'idea che idea hai? questo lo chiameremo qua mi ci pensare questo lo chiameremo ecco annuncio per i nuovi amici no annuncio per i nuovi video sui nuovi amici di nosavre ottima idea ok questo lo chiameremo così annuncio per i nuovi video sui nuovi amici di nosavre ottima scelta ok che ne pensi? a richiudere le riprese? si ok bene ragazzi il video finisce qui mi raccoma facciami sapere se se questo video mi piace lo stesso lasciate tanto i commenti su instagram e noi come sempre noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao ciao Ciao